Ultimo chilometro Al grande ciclista avruzzese Silvestro Lacioppa Corridore di grande tecnica e qualità Fine anni 50, inizio anni 60 Siamo alla vigilia di un grande appuntamento ciclistico Ma di questo ce ne parlerà il nostro ospite Quando? Ma adesso Ultimo chilometro Rocco, ben trovato Buongiorno Marco, dimmi tutto Rocco Lacioppa, consigliere del nuovo team Silvestro Lacioppa Categoria giovanissimi Non sei presidente, però non sbaglio se dico Che comunque sei l'anima di questa nuova realtà ciclistica Sì, abbiamo fatto questa società Il mio fratello, lui si occupa a livello di presidente Io mi occupo di tutta la gestione Sia logistica della società Sia delle sponsorizzazioni di tutto quanto Mi interfaccio con gli allenatori E tutto quanto, con i ragazzi e tutto Una bella realtà che sta crescendo Piano piano E ci torneremo a piccole soddisfazioni Per far crescere i ragazzi in un ambiente sano Siamo alla vigilia della presentazione ufficiale Che si terrà domani a Francavilla Nel pomeriggio In una location importante di prestigio Il Museo Michetti Sì, grazie al sindaco e all'assessore E allo sport Ci ha fatto questo bel regalo Di fare la presentazione al Mumi Con il patrocinio del comune di Francavilla Devo dire grazie al sindaco e all'assessore E tutto il staff del comune di Francavilla al Mare Di quanti ragazzi si compone il nuovo team ciclistico? Il team si compone di 12 ragazzi Dalle categorie da G0 fino a G6 12 ragazzi tranquilli Giusto per iniziare come primo anno Per testare È più che sufficiente per fare il 2017 Tranquillamente testare questa nuova società Oltre al divertimento Quali sono le vostre aspirazioni? Divertirci Farci qualche esperienza di gare fuori regione Dove è di altissimo livello Tipo il meeting Un'altra gara importante è la coppetta d'oro Su in Trentino Farci alcune Imola Farci delle esperienze fuori regione E anche abbinarci Una mini vacanza Di abbinare ciclismo con vacanza Il grande Silvestro Lacioppa È stato un professionista Anni fine 50 Inizio 60 Io credo che sia un vanto Poter portare avanti Un nome così importante Nonché tuo zio Allora È una bella responsabilità Perché portare il nome di mio zio In giro Per l'Italia Dove persone che ti vengono Alle prime azioni E chiederti Ma sei il nipote È una bella soddisfazione Ci metterò tutto l'impegno Ma non solo Io ho tutta la famiglia La cioppa Di portare avanti Il più possibile Questa società Sentivi la necessità Di creare Questo nuovo team ciclistico Io Parlando e scherzando Con degli amici Ho presentato un progetto Dove devo ringraziare Veramente Paolo Fessa Che leggendo questo progetto Te ne ho innamorato Piano piano Abbiamo tirato le somme Dopodiché Intervenuto anche Camplone Abbiamo messo su Le prime basi Sono intervenuti anche i genitori Ti dico la verità Hanno creduto in questo progetto Stiamo partendo Piano piano Divertirsi per crescere Marco Ti dico la verità Niente vincite Niente aspirazione Chissà Però vogliamo far crescere i ragazzi Grandi Niente sano La vostra prima uscita Quando? Il primo aprile I ragazzi andranno a Santa Villa I più piccolini E i più grandi Andremo a fare la prima esperienza A Senigallia Quindi a breve Ci sarà L'esordio ufficiale Del nuovo team Silvestro La Cioppa Sì Anche se I miei figli Sia Aaron Che Giada Già hanno testato Su due gare a Roma Le prime due uscite In Mundan Bike Ricordo L'appuntamento di domani Domani a che ora Scusami Allora Vi aspetto tutti quanti Domani alle ore 17 Al momi di Franca Villa al Mare Vorrei ringraziare di nuovo L'amministrazione comunale Di Franca Villa al Mare E soprattutto A Paolo Fessa Veramente Che ci sta mettendo Impegno Ma più che altro Passione e cuore Quindi un grande appuntamento Ci saranno tante persone Possiamo svelare Che ci saranno anche Dei video importanti Che riguarderanno Silvestro La Cioppa Sì Marco Ecco L'unica cosa che ho dimenticato Ti devo Veramente dire Grazie Per quello che hai realizzato Grazie veramente Di cuore Da tutta la famiglia La Cioppa Grazie Grazie a voi Grazie a voi Spero che i video Poi possano piacere Insomma Poi quella È la più grande soddisfazione Non è che piacerà La cosa Penso che farà uscire Anche qualche lacrima Addirittura Quindi commuoverà Commuoverà Chi sarà presente E allora Rocco Ovviamente Da parte mia Da parte di Ultimo Chilometro Ma credo anche Da parte Degli amici Appassionati di ciclismo Il più sincero In bocca al lupo Per questa nuova Avventura ciclistica 2017 Un team Dedicato al grande Silvestro La Cioppa Che andremo quindi Anche a ricordare Nella giornata di domani In occasione Di questa presentazione Ufficiale Tante belle cose A te A tutti I componenti Del team Ai ragazzi Ai genitori Buona stagione 2017 Grazie Marco E buona giornata Arrivederci Ciao Marco Ultimo Chilometro Ultimo Chilometro Radio Radio